E buongiorno e benvenuto sulle Talkabout. In questo video torniamo a parlare di M3Mars che è un portale che ci permette di crearci una rendita giornaliera con le cripto. È un portale molto interessante perché ha un funzionamento diciamo unico del suo genere ma ne parliamo ovviamente dopo la sigla. Prima di cominciare come sempre ti chiedo di lasciare un bel like su questo video altrimenti non costa nulla ma mi aiuti veramente tanto a far crescere il mio canale e cosa importantissima se non l'avessi già fatto iscriviti al canale e premi sulla campanella così verrai notificato non appena pubblicherò un nuovo contenuto e sicuramente farò di nuovi contenuti su M3Mars ti farò vedere come sta continuando la mia avventura su questa piattaforma quindi per non perderti mi raccomando iscriviti. Come funziona M3Mars? Allora c'è un funzionamento che abbiamo già visto in altre piattaforme ovvero noi compriamo un NFT, un pacchetto e questo NFT o pacchetto che sia ci dà una rendita giornaliera e fin qui ok. Dopodiché se noi invitiamo gente sotto di noi prendiamo un pezzo dalla rete che andiamo a creare e fin qui anche tutto ok. Quello che però è molto particolare è che andremo a prendere anche un pezzetto dalla rete sopra quindi se noi ci iscriviamo sotto qualcuno non prenderemo solo da chi facciamo invitare ma prenderemo anche una percentuale da chi ci ha invitati quindi ad esempio se ti iscrivi con il mio referral prenderai una parte delle mie rendite che verranno appunto distribuite anche a te. Questo è l'unico portale che abbiamo visto che dà una percentuale sulla rete sia da chi ti sta sotto e sia da chi si sta sopra. Quindi avrai la rendita del tuo pacchetto avrai la rendita di chi inviti ma avrai la rendita anche di chi ti ha invitato il che sicuramente non è male. Voglio farti vedere come è andata in questi mesi che l'ho utilizzata ti farò vedere anche in diretta un prelievo quindi ti faccio vedere come è facile fare il prelievo perché arriveranno gli USDT direttamente sul tuo wallet puoi connettere qualsiasi wallet io ho connesso Metamask ma supporta qualsiasi wallet immaginabile. Insomma per farti vedere tutto direi spostiamoci al computer. Allora rieccoci su M3Mars che cos'ha di interessante questa piattaforma? È la prima piattaforma che ci permette di guadagnare in tre modi ovvero dal pacchetto che andiamo ad acquistare quindi dall'NFT che noi deteniamo è ok dalla rete che andiamo a fare quindi se noi invitiamo qualcuno o qualcuno ci darà una piccola percentuale del suo profitto ma è la prima piattaforma che abbiamo visto che ci permette anche di guadagnare da chi ci ha invitati quindi non solo guadagnerai perché inviti qualcuno ma guadagnerai anche perché ti sei iscritto da qualcun altro esempio pratico se tu ti iscrivi col mio referral prenderai una percentuale del mio profitto quindi anche se tu non farei rete prenderai il guadagno dal tuo NFT e dal mio profitto è la prima piattaforma che vedo che ha sta funzione ho già spiegato nell'altro video che la rendita viene divisa in tre coin una è direttamente swappabile da questa piattaforma l'altra verrà listata quindi ne parleremo poi quando verrà listata ma adesso intanto parliamo di questa coin qua quindi della coin che è subito swappabile adesso vedremo anche come fare un prelievo e lo faremo in diretta così lo vedrai intanto però come fare per iscriversi ovviamente bisogna acquistare l'NFT quindi si va su avatar e qua abbiamo i nostri pacchettini quindi si parte dal primo pacco da 100 dollari poi c'è quello da 500, poi quello da 1000, poi quello da 5000 eccetera ci sono dei limiti per esempio quello da 100 dollari possiamo detenerne al massimo 2 quindi è una piattaforma che non ci chiede tantissimo ovvio che ci sono i pacchi giganteschi ma questi li fa veramente solo chi è pieno di soldi la gente normale punta a questi qua più piccoli insomma ci basta fare buy now e andremo a utilizzare gli USDT nel nostro wallet per fare l'acquisto possiamo logare con 20.000 wallet diversi qualsiasi wallet tu abbia va bene io ora sto usando Metamask anche qua ti rimando nel video vecchio per vedere come fare i logins col wallet se non hai mai usato un wallet insomma se non è tutto molto semplice in caso io voglia comprare questi 100 USDT mi basta caricare sul wallet 100 USDT appunto più uno 0, qualcosa di BNB perché questa piattaforma qua viaggia sulla rete di Binance quindi si pagano le commissioni in BNB una volta fatto quello farò buy now mi uscirà fuori il pop up di Metamask o del wallet che andrai a usare insomma faremo firma e andremo ad acquistare il nostro pacchetto da 100 questo pacchetto comincerà a lavorare dal giorno dopo e noi cominceremo ad avere la rendita sia del pacchetto sia della rete dietro di noi quindi appunto se ti iscrivi con il mio referral prenderai la percentuale da me e la percentuale dalla persona che ha fatto iscrivere me perché la rete va indietro di due livelli quindi senza che tu faccia nulla solo attivando il pacchetto prenderai il pacchetto più mia rete più rete della persona dietro ancora di me se inviterai qualcuno prenderai anche quella di qualcuno che andrà a invitare e così via insomma dove vediamo le nostre rendite? allora torniamo indietro una volta che abbiamo capito come acquistare l'NFT andiamo su asset e qua vediamo i nostri asset come vedi sono divisi in tre gli MM sono già swappabili ora ti faccio vedere come gli UME sono quelli che verranno listati quindi per ora ignoriamoli farmiamoli ma li lasciamo lì gli MC sono un bonus che la piattaforma ci dà per comprare dei gadget marchiati M3 Mars ci sono portachiavi ci sono cavolatine insomma che si comprano con queste coin qua quindi questa appunto è una coin bonus che ci danno soltanto per comprare il merchandising della piattaforma ma vediamo un attimino come fare appunto un prelievo quindi come prendere questi MM e portarceli a casa sul nostro wallet dobbiamo andare su sell perché quello che potremmo fare è andare a vendere gli MM in USDT quindi premiamo su sell ci chiede quanti vogliamo venderne mettiamo tranquillamente max e premiamo conferma ci esce fuori il metamask che ci chiede la firma firmiamo e fine il gioco è fatto gli MM sono spariti sono diventati USDT e se io vado sul mio metamask me li trovo esattamente qua quindi i miei 51 USDT che ho trasferito eccoli qua una volta su metamask ne faccio cosa voglio quindi li porto su Binance li lascio lì li porto su Ledger li porto dove mi pare quindi questa piattaforma è davvero ottima se si vogliono farmare gli USDT come hai visto non c'è stato nessun taglio e questo è il tempo necessario del prelievo non c'è nessuno dietro nessuno che deve confermare la transazione niente va tutto in blockchain sulla Binance Smart Chain quindi nel momento in cui io premo swap e sell mi arrivano gli USDT nel wallet ci mette davvero 5 secondi 10 secondi poi dipende dal traffico magari ci può mettere un po' di più ma si parla di secondi penso che questa piattaforma non si ha assolutamente da sottovalutare ottima la cosa davvero ottima che si prende la percentuale della rete di chi ci sta dietro e non solo di chi ci sta sotto proprio perché più l'account di chi ci ha invitato andrà a ingrandirsi e più noi ci faremo profitto e visto che comunque sicuramente chi ci invita avrà un account che va a ingrandirsi sempre di più il nostro profitto andrà avanti anche grazie a loro insomma ripeto che si possono comprare soltanto due pacchi da 100 quindi massimo due di questi qua se vuoi usare più di 200 USDT devi andare sul pacchetto da 500 non si può comprare più di due pacchi da 100 nell'altro video ho sicuramente dato ancora più dettaglio spiegato bene il come funziona eccetera quindi se vuoi buttarti e usarla senza troppe spiegazioni quello che ho detto qua ti basta quindi ricarichi il tuo wallet di quanti USDT vuoi compri il pacchetto comincia a lavorare sia il pacchetto sia la rete quando ai tot li vai a prelevare punto se vuoi invece sapere bene i tre coin come vengono divisi perché ci sono tre cripto diverse eccetera ti rimando all'altro video c'è tutto lo spiegone quindi lì avrai una spiegazione più completa in modo da poter capire meglio il funzionamento del portale e la sostenibilità detto questo io direi che per ora è tutto se hai domande falle qua sotto nei commenti ti chiedo ancora se non l'avessi fatto di lasciare un bel like perché mi aiuti veramente tanto a far crescere il canale e mi raccomando cosa è importantissima iscriviti al canale e premi sulla campanella perché così verrai aggiornato non appena pubblicherò dei nuovi aggiornamenti sicuramente pubblicherò dei nuovi aggiornamenti ci sono sempre aggiornamenti quindi è giusto rimanere sempre sul pezzo mi raccomando non perderti i pezzi per strada io ti ringrazio ancora di essere arrivato fin qua e noi ci vediamo nel prossimo video